Sante Romane Ecclesie, Cardinale Bergoglio, qui, sì, in nome dei posi, Franciscus, e Franciscus è Caffaggio. Ora ve lo presento, ve l'ho portato qui, ed è qui a Caffaggio. E fa meglio di rinforzare, si capisce meglio. No, 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 un applauso. Ciao a Franciscus a Caffaggio. No, no a Franciscus, ci va a far cosa a Caffaggio. Fratelli e sorelle, buonasera. Sono molto contento di essere qua, questa bella comunità di Caffaggio, e vedo che ci sono tante persone, i tanti giovani. Ci sono tanti giovani? Fatevi sentire, giovani. No, ma via, fatevi sentire, un grande applauso al Papa. Una bella serata, una bella serata che ho deciso di fare visita a Don Massimo, che forse è anche in area di promozione, eh? Se fa il bravo. Ho deciso di fare una sorpresa, perché, perché sapete, io faccio la sorpresa. Io ho il numero di telefono di tutti, vi chiamo a casa, vi chiamo sul cellulare, e quando vedete un numero con il prefisso del Vaticano, rispondete, che è il Papa. È il Papa che vi vuole parlare. Io voglio ringraziare la comunità di Caffaggio e Don Massimo. Io sono in debito con Don Massimo per questa ospitalità, e ho chiesto cosa potevo fare con Don Massimo, di fare un piacere a lui. E lui mi ha risposto, fai vincere lo scudetto alla Fiorentina. Ma io non posso, non posso fare, anche se è Fiorentina, mi sta molto simpatica. Per questo ringrazio tutta la comunità di Caffaggio, e vi faccio una buona serata. Buona serata, e buona sfilata. Grazie, un applauso al Papa. Grazie.